Giombetta, Giombetta, ma spiegami una cosa, ieri sono venuti qui a via Vigne di 22 Rubbi, hanno levato l'immondizia che c'era a monte e qui giù hanno lasciato tutto come sta, hanno rimosso solo un materasso lì. Giombetta, fammi capire, ma come funziona? Te ripeto, a domenica invece di spostare a Fiorera a Piazza San Pietro, vieni qui in periferia, vieni a renderti conto dell'ambiente sul quale sopraintendi. Dai Giombetta, faccia vedere.